Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti e ancora di nuovo, come sempre, ben ritrovati qua nel solito disordine della mia biblioteca. Allora, cari signori, questa sera si torna a parlare di libri. In questo video parleremo nuovamente di un libro. Un vecchio libro risalente al 1960, questa però è un'edizione molto più recente che è stata ristampata recentemente. Dicevo, un libro degli anni 60 che si intitola I generali del deserto. L'autore è Correlli Barnett, storico militare inglese molto noto, personaggio molto conosciuto in Inghilterra per la sua verve polemica, in pratica una socera invelenita. L'introduzione che vi leggo ci dice che a tanti anni di distanza dalla guerra d'Africa, gli storici militari sono divisi nel giudicare quell'avvenimento che determinò in buona parte l'esito del conflitto tra l'asse e gli alleati. Da un lato un piccolo gruppo di uomini malarmati e peggiori forniti, comandati da un genio della tattica, l'Africa Corps di Rommel, la volpe del deserto. Dall'altro la strapotente armata del Nilo, alla testa della quale si succedettero ben cinque comandanti britannici, ovvero sia Archibald Weyval, Richard O'Connor, Alan Cunningham, Neil Ritchie, Claude O'Chinlec, fino all'arrivo della coppia Alexander Montgomery. Un grande studioso di storia militare ci racconta la guerra vista dalla parte dei vincitori, e più in particolare dal quartier generale britannico. Ne scaturisce una rievocazione che è anche un atto d'accusa nei confronti dei generali dalla mentalità vecchia e superata, che non seppero reagire alle iniziative e ai bluff disperati di Rommel. Neppure Montgomery, il vincitore di El Alamein, sfugge alle accuse di Barnett. Allora, questo libro è un libro estremamente interessante, da leggere per capire come era vista la guerra nel deserto da parte inglese. Chi furono i generali che comandarono l'armata del Nilo o l'ottava armata britannica nel corso di quei tre durissimi anni di combattimenti nel deserto libico. Che posso dire? Come ho già accennato, Barnett è noto per essere estremamente polemico. Con Montgomery addirittura sembra avere una questione personale, cioè io non vorrei che Monti gli abbia trombato la fidanzata, ecco, per dire. Perché è estremamente acido Barnett nei confronti di Montgomery? Allora, siamo sinceri, Montgomery, l'ho detto più di una volta, era simpatico come le emorroidi, altero, sprezzante, presuntuoso, verissimo, incapace di stare zitto. Anche questo è vero. E Barnett calca molto la mano sul raccontarci l'antipatia dell'uomo Montgomery, la sua, come dire, assoluta, la sua assoluta incapacità di, come dire, venire a patti col proprio ego. Era un egocentro e una prima donna Montgomery. Poco da dire, poco da fare. Però sappiamo bene che, come dire, fece venire due esaurimenti aurementi nervosi filati a Rommel. E questo non è poco. Dicevo, è interessante questo libro perché ci mostra gli uomini che affrontarono Rommel, che affrontarono l'armata italo-tedesca in Africa. Uomini che alcuni non erano all'altezza, sicuramente. Altri non erano in grado di capire la guerra moderna come era concepita da Rommel. Allora, teniamo presente una cosa. Come ho detto più volte, Rommel, a livello tattico, sul campo di battaglia, era né più né meno un Annibale o un Alessandro Magno dei tempi moderni. Stop. Assolutamente indiscutibile. Il suo genio tattico, la sua capacità di leggere il campo di battaglia, quello che i tedeschi chiamano come, hanno un modo di dire, i tedeschi che ha a che fare finger spritzful, se non ricordo male. Praticamente è una sorta di sesto senso che... il tocco magico, possiamo chiamarlo. Ecco, una sorta di tocco magico. Questa sensazione, insomma, questo sesto senso che riesce a leggere le situazioni, come dire, toccando con le mani la carta geografica. Ecco, una cosa di questo tipo. I tedeschi hanno questo modo di dire, spero di aver detto giusto. Dicevo, Rommel aveva questa straordinaria capacità tattica, indubbiamente, ma, 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 aveva degli enormi limiti a livello strategico. E non sono il solo a dirlo. La sua carriera bellica parla chiaro. Rommel era un genio assoluto della tattica, era un maestro indiscutibile della tattica. Ma quando si trattava di strategia e logistica, e lì venivano fuori i grossi limiti che aveva. E ne aveva tanti. Limiti dei quali nessuno dei comandanti inglesi seppe approfittare. Ci riuscì Montgomery. In questo libro Montgomery viene dipinto come una arrogante prima donna, come un altezzoso e supponente bulletto da quattro soldi. Non era simpatico Montgomery, per niente. Non era per niente simpatico, siamo sinceri. Ma, ripeto, leggendo le pagine di questo libro, viene il sospetto che Barnett ce l'abbia su con Montgomery per motivi personali. È comunque una lettura interessante perché ci spiega, diciamo, non ha filtri, non ha un occhio di riguardo. Allora, tante volte si dice la storia è scritta dai vincitori, non si devono sapere certe cose, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, Correlli Barnett è inglese, un vincitore. Ci parla dei vincitori della sua, insomma, dei vincitori della campagna del deserto, gli inglesi. E gli inglesi hanno vinto alla grande la campagna del deserto. Ci si aspetta, come dire, una, ci si aspetta, come dire, una agiografia dei generali che condussero quella guerra, una sorta di glorificazione. Invece no. Molti personaggi, molti dei comandanti che agirono al comando dell'armata del Nilo, poi ottava armata britannica, vengono, come dire, vivisezionati senza pietà alcuna da Barnett, che ne dice pesta e corna. L'unico di cui parla bene è Ochinlec, mentre gli altri vengono, come dire, trattati con una certa sufficienza. Vabbè, Ricci fece la figura che fece, Cunningham, anche lui, si fece, come dire, fregare dai blef di Rommel. Ma Rommel, come ho già detto, era un assoluto genio della tattica, pur nei suoi limiti strategici. E qui devo controbattere Barnett. Mi si perdoni, io sono un ignorante di terza media. Barnett è uno storico famoso, è uno storico celebrato, è stato, insomma, come dire, è stato il curatore del Churchill Archive Center, membro del Churchill College di Cambridge, è stato membro del Council of the United Service Institute for Defense Studies inglese. Ha scritto un sacco di libri, cioè io sono una testa di cazzo qualsiasi, dovrei stare zitto e leggere così. Però, insomma, qualche libro me lo son letto, una mia idea su Montgomery me la sono fatta. Montgomery, pur essendo odioso, e diciamoci odioso a livello personale, aveva una qualità che Rommel non possedeva minimamente, ovvero sia la visione strategica, la capacità di guardare quello che c'è dall'altro versante della collina, quello che c'è immediatamente oltre quello che è sotto gli occhi. Una qualità che Montgomery aveva e che Rommel non ha mai posseduto. Basti vedere la faccenda di Malta, basta vedere l'insensata avanzata verso il confine egiziano, fidando soltanto sui rifornimenti che dovevano arrivare e non tenendo conto che gli inglesi i rifornimenti ce li affondavano. E tanto poi dopo come dire, a chi la vittoria? Ai tedeschi, a chi la sconfitta? A noi italiani. Ecco, questo fu uno dei tanti, un altro dei tanti difetti di Rommel. Dicevo, il libro di Correlli Barnett va letto per conoscere i personaggi che furono al comando dell'esercito inglese dell'ottava armata britannica durante la guerra nel deserto. Un libro interessante, polemico, molto polemico, soprattutto quando parla di Montgomery, e un libro da valutare con estrema attenzione. Allora, come ho già detto, qui sembra proprio che Barnett ce l'abbia su con Montgomery per motivi personali che io non sono interessato a indagare. E molto del livore che Barnett ha nei confronti di Montgomery è secondo me ingiustificato. Però ripeto, io sono soltanto un'autodidatta con la terza media, quindi posso esprimere soltanto un'opinione personale. Barnett nel parlare male, a volte giustamente male, di Montgomery, ma secondo me certe cose sono gratuite e piuttosto insensate. Ma non lo so, è soltanto una mia opinione personale che voi che guardate questo video e che magari questo libro lo avete già letto valuterete o meno con la dovuta attenzione. Ok? Quindi io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e come sempre arrivederci al mio prossimo video. Buonasera signori.